Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto questa notte dalle 0 alle 6 chiude il sottopasso del Lingotto per operazioni di pulizia meccanizzata. Vi ricordo, sino a lunedì prossimo, lavori in via dell'Ellis nel tratto compreso tra via Pietromicca e via Santa Teresa. Da domani controllo mobilità, sino a sabato in via Chiesa della Salute, Venaria, Borgaro, Stradella, Breglio, Corsi Giulio Cesare, Vercelli, Palermo. Domani ultimo giorno del presidio dei dipendenti online in corso Mortara 22. Alle 11 domani mattina in via Cavagnolo 7 cerimonia di inaugurazione della seconda delle otto postazioni di defibrillatori automatici esterni donati alla città di Torino nell'ambito del progetto Torino Città Cardiopatica. Sino a domani la linea 16 circolare sinistra da corso Regina Margherita è deviata in corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, via Cibrario, corso Tassoni, percorso normale. È tutto, buona serata, buon viaggio, a domani.